E allora buongiorno, iscrivetevi tutti a questo canale se non siete già iscritti, condividete con tutti i tifosi dell'Atalanta che conoscete e anche delle altre squadre, seguitemi su Instagram e per questo video qua 400 like signore, 400 like, 400 like Allora, Atalanta-Real Madrid, mi viene in mente il video, non so per chi è veneto come me, per chi è padano magari come me se hai mai visto il video quello dell'allenatore veneto che insomma con le bestemmie dice Game un po' di sfortuna, no game un po' di fortuna e poi inizia con la sua dipanata, con la sua dipanata di oscenità La partita di quest'oggi è abbastanza riassumibile così, c'è questa espulsione qui che a mio avviso non c'era per carità l'intervento era falloso ma era assolutamente da giallo e non da rosso Devo dire che fino ad allora l'Atalanta aveva tenuto ottimamente il campo L'ha tenuto anche dopo, sebbene poi abbia sofferto, sebbene poi sia stato un Real Madrid comunque che pressava un Real Madrid aiutato Però diciamo che sarei stato curioso di vedere un'Atalanta 11 contro 11 che cosa avrebbe fatto Magari un'Atalanta che avrebbe rifornito di più le punte, che avrebbe alleggerito maggiormente Detto questo però io non farei troppo vittimismo, non farei del vittimismo, sebbene comunque vi ripeto l'episodio sia abbastanza chiaro e discutibile Dicevo non farei del vittimismo perché alla fine non è che sia chiuso il discorso Nel senso, un 1-0 non è un 6-0, non è un 4-0, non è un risultato impossibile da ribaltare Giocherai a Madrid, è vero, ma giocherai senza pubblico, non giocherai a Santiago Bernabeu Quindi voglio dire, è tutto aperto È tutto aperto come si è detto anche durante la partita Si spera che potrai giocartela in 11 contro 11 Io devo dirvi la verità, non ho visto un Real trascendentale Non tanto a livello di gioco, dove comunque va a fasi Cioè non è un Real che gioca, che fa calcio champagne, che fa calcio spumeggiante per 90 minuti È alle sue belle azioni, alle sue belle azioni in velocità Come quella che ha portato per esempio all'espulsione È stata una bellissima azione, va detto Però non è un Real che per 90 minuti ti martella Scusate Non è un Real che per 90 minuti ti martella Che è sempre lì davanti, che è sempre spumeggiante Che ha sempre l'azione devastante È un Real che va molto a fasi È anche un Real che, devo dirvi l'onesta verità Non è che leggi la formazione e resti storto Per carità, ha i suoi bei giocatori Ha i suoi bei protagonisti Tra l'altro mi è anche venuta una pontatina Una pontatina mentre guardavo la partita Con un bel Lucas Vazquez alla Juve L'avete sentita? Lucas Vazquez alla Juve Lucas Vazquez, detto il Rocco Sifreddi di Valdebebas Perché ci assomiglia anche Un bel Lucas Vazquez alla Juventus Così, così, messo così Ve la do così Ditemi cosa ne pensate Detto questo, cioè non è un Real Che legge la formazione Ed è una roba tipo Paris Saint-Germain Che è una cozzaglia di stelle, capito? È una squadra affrontabile Sia a livello di gioco Vi ripeto, perché non è che ha 90 minuti di intensità e de fuego in quel de Madrid Ma sia a livello di giocatoristica Di rusteristica Insomma, tra assenze, tra infortuni Tra cose Si sono visti dei Real Ci sono visti dei Real più temibili Ecco, si sono visti dei Real più temibili Dell'Atalanta Devo dire che Ora tutti punteranno Giustamente Per certi versi Il dito contro Ilicic Perché è stato avulso Perché ha deluso Per carità di Dio Non ho visto Un gran In Granilici Poi va detto che c'è stato anche Purtroppo l'infortunio di Zapata Che ha detto molto Perché Zapata Stava facendo una partita Veramente Di lucidità Una partita di forza Stava tenendo anche sulla squadra Però devo dire Ecco che Muriel Ha avuto Quest'oggi Una di quelle partite In cui Diciamo che Io che ce l'ho avuto Alla Fiorentina Quando Quando lo vedevo giocare così Erano le partite In cui Dicevo Che se a fine anno Andava via Ecco Per essere Per usare un eufemismo Un continental breakfast Me lo facevo lo stesso Ecco Quelle partite In cui ho misto Tra L'avulso E il superficiale Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Mi è piaciuto Molto invece Al solito Gosens Mi è piaciuto Molto Joan Sebastian Deron Veramente Un giocatore Ottimo Mi è piaciuto Romero Ma tutta l'Atalanta Alla fine Non è che puoi Colpevolizzarla Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che puoi accusare Non è Non ci sono errori Non ci sono Palti Alla fine Hai giocato In inferiorità numerica Contro Real Madrid Hai preso Un gol La situazione È ribaltabile Io ci crederei E nulla dipingerei Permettetemi Poi giustamente Se ce la fai Se ci riuscirai Toccandoci anche I coglioncini Sarà giusto farlo Ma di partenza Non la dipingerei Neanche troppo Di epica Questa cosa Che devi andare A Madrid Devi vincere Non la dipingerei Di epica Non la dipingerei Di epoca Ok Sembra una canzone Di Liga Bue Non la dipingerei Di epoca Sapete quelle canzoni Che fa lui Che sono tutte uguali Tipo Non sarà un bel souvenir Sarà un bel souvenir No Quella è anche carina Ecco L'unica canzone Così che mi piace Di Liga Bue Sarà un bel souvenir Però Non la dipingerei Di epica Sembra una canzone Di Liga Bue Anni 90 Non so se siete d'accordo Con me Ecco Detto questo Non la dipingerei Di epica Perché vi ripeto La pontatina Piratesca A Valdebebas A Valdefecas Va bene È fattibile Io ci credo Signori Ci credo Se ci crediamo Per la Lazio Voglio dire Quella Quella dell'Atalanta A Valdefecas Diventa veramente Una formalità Diventa Diventa veramente Una formalità E credo Che l'Atalanta Ce l'abbia Nelle corde Ce l'abbia Nelle corde Ce l'abbia Nelle corde Anche perché È una squadra Che gioca Di offensivistica Ha le corde Quello dell'andare A fare gol Dell'andare A fare gol Una squadra Che pressa Una squadra Che quando gioca Al massimo Nel pieno Delle sue possibilità È una squadra Costruita Per segnare È una squadra Per queste notti Se subirai Un gol In quel di Valdefecas Non importa Perché tu sai Che i gol tuoi Valgono doppio Due gol Quest'Atalanta Li può fare Ne può fare Anche tre Volendo Se trova Una serata In cui Real Fa particolarmente Schifo E tu invece Sei bello Grintoso E sprintoso Quindi io Vi dico Se la si preparerà Bene Se L'Atalanta Farà la serata Ma neanche perfetta Vi dico Una serata Anche molto buona Una serata Concentrata Una serata Da Atalanta Se Real Madrid È anche quello Di stasera Che voglio dire Un buon Real Madrid Un bel direttore Per carità di Dio Rispetto Ma un Real Madrid Affrontabile Accessibile Secondo me Secondo me Secondo me Vi ripeto È molto aperta È molto aperta E l'Atalanta Può farcela Vado di pagellistica Gollini Voto Sei Ha fatto delle parate Veramente Quella in cui La palla Gli è arrivata in aria E lui L'ha L'ha rinviata così Veramente belle parate Distinto Gli do sei e mezzo Toloi Toloi Migasas Questa difesa qua Molto buona Molto buona È la migliore Migasas Toloi sei e mezzo Romero sei e mezzo Simcity 3000 Migasas Anche lui Sei e mezzo Maele In crescita Sei più Deron sei più Froiler Cosa vuoi che te dica Gli do dal 5 al 6 Ma non era neanche Stava coprendo Oltretutto Gli do dal 5 al 6 Proprio Gossens Voto Sei e mezzo Matteo Pessina Gli do comunque Per la corsa All'intensità Sei e mezzo Zapata Finché c'è stato Sei e mezzo Muriel Sei meno Palomino Sei Malinoski Sei Ilicic Dal 5 al 6 Mario Pasalic Neanche lui Non mi ha entusiasmato Sei meno Voto a Gasperini Ma sei più Perché comunque Aperto Ho visto una buona Atalanta E ci vediamo a ritorno Un caro saluto E ci vediamo a ritorno